Allora, mi hanno detto che mi devo intervistare da solo. Non mi è mai capitato in tutta la mia vita di dover fare un'intervista a me stesso, però ci provo. Nome Marco, cognome Baldini, qualifica uomo approssimativo e papà approssimativo. Attualmente cosa fai nella vita? Sono ospite, faccio l'ospite in 087, che è il programma di cui stiamo appunto parlando, voi siete nel sito di 087. Cosa fai? Questa è una bella domanda, lo devono ancora capire loro, diciamo che ancora non se ne sono accorti, ma praticamente non faccio niente o quasi, se non le mie top ten. Ogni tanto me ne esco con qualche top ten, poi mi occupo di una rubrica che si chiama Zara Bet, dove stranamente non so perché hanno scelto me per le scommesse, però comunque insomma sulle scommesse più improbabili che ogni settimana Zara Bet, 087, dunque Zara Bet vi propone. Quanto durerò? Una bella domanda. La risposta che mi verrebbe da dare è finché non mi cacciano, ma visto che ne ho già fatte 6-7, diciamo che sono in odore di pedata nel fondoschiena. I miei compagni di viaggio sono Bruno Stanzione e Angelo Di Palma, e il boss, vabbè, Cristian Lelli, al quale ancora non ho chiesto soldi, dunque l'amicizia regge. Poi c'è la direttora, ma è già impegnata, dunque non gli posso dare fastidio. La domanda cazzo ci viene a fare allora? Questa è una bella domanda, signori. Diciamo perché a fine mese ci devo arrivare. Seguitemi su Zara 87. Grazie. Ciao.